L'Italia è totalmente da ricostruire, le città, ma anche il tessuto sociale. Manca il gas e ci si aiuta come si può con rudimentali fornelli a carbone. Mancano i mezzi di trasporto, lunga è l'attesa davanti ai negozi. Ci sono cumuli di macerie ovunque. L'Italia è un paese che è stato diviso sia geograficamente che politicamente. Sono da ricostruire anche le infrastrutture e i servizi basilari che non esistono più. Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. Grazie a tutti.